Anche alla Dispoli il fenomeno dell'abbandono indiscriminato di rifiuti è diventato una vera e propria piaga. Cumuli di sacchi neri colmi di spazzatura vengono lasciati sulle strade di campagna e nelle vie del centro, senza alcun rispetto per la collettività. I volontari di fare ambiente continuano a pattugliare il territorio per scovare gli incivili e si appellano direttamente alla cittadinanza. Quando scrivete sui social che la colpa è di chi non controlla o di chi non pulisce, ricordate, i controlli ci sono e parecchi, altrimenti ci sarebbe immondizia fin dietro l'uscio di ogni casa, scrive l'associazione. Noi volontari vorremmo esortare e impiegare il vostro prezioso tempo, anziché in foto, post e discussioni, nell'azione concreta, attiva, per far notare il pessimo comportamento assunto dallo sporcaccione quando getta un mozzicone di sigaretta o una lattina o un qualsiasi altro rifiuto. Il fotografare e pubblicare un sacco di spazzatura, una deiezione, delle bottiglie abbandonate, fomenta gli animi ma non risolve il problema, concludono i volontari, perché gli incivili continueranno ad esserlo e voi avrete avuto le due ore di negativa visibilità per la disputa creata.